Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è andato in visita ufficiale in Ucraina e ha dovuto ripararsi da un attacco aereo. Sono passati sei mesi, era aprile, dall'incidente diplomatico che lo aveva respinto sulla strada verso Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky che lo aveva definito persona non grata per i suoi sforzi diplomatici in passato quando era ministro degli esteri a sostegno della Russia. Proprio ora di fronte agli ignobili attacchi missilistici e con droni russi era per me importante venire qui a dire alla gente in Ucraina qui nella capitale ovviamente ma anche oltre la capitale, nei villaggi e nelle città che siamo dalla vostra parte, vi sosteniamo continueremo a sostenervi economicamente, politicamente e militarmente fino a quando sarà necessario. Martedì durante la sua prima visita in Ucraina dallo scoppio della guerra è sfuggito a un raid aereo in serata visto Zelensky e mercoledì è rientrato in Germania. Nel rifugio antiaereo a Koryukivka ho parlato con donne le cui storie mi hanno molto scosso la gente di Koryukivka ha letteralmente forzato a mani nude i carri armati russi a girarsi e questo mi ha davvero impressionato. Koryukivka è già nota alle cronache per un'operazione punitiva nazista nel 1943 che in due giorni provocò 7.000 vittime. Oggi la Germania, in questa città di 14.000 abitanti nel nord-est dell'Ucraina inizialmente occupata dai russi e che vede le sue infrastrutture fortemente danneggiate ha fornito dei pacchetti per l'inverno che consistono in generatori, tecnologie di riscaldamento di distretto che usano il legno delle foreste circostanti e un'officina mobile di riparazione per riscaldamento e sistemi idrici. Il contributo della Germania alla manovra dell'Ucraina verso la pace e il ripristino della nostra integrità internazionale è davvero significativo, ha elogiato Zelensky ringraziando inoltre Berlino per avere fornito dei moderni sistemi antiaereo Iris T.